Se non fosse la realtà dei fatti, potrebbe essere il nuovo gioco di Natale. È l'Imu Prima Casa, che a 15 giorni della scadenza della seconda rata resta ancora in dubbio se ci sarà o meno qualcosa da pagare. Dall'Associazione dei Comuni della Marca, che stanno seguendo questo nuovo virtuosismo politico-burocratico tutto italiano, confermano. Essendo la tassa abolita, sono abolite tutte le varie sovrapposizioni della tassa base. Attenzione però, perché tutto è ancora in viaggio tra Camera e Senato per l'approvazione e le inevitabili modifiche. In ballo c'è l'aumento che ogni comune poteva fare a discrezione sopra il 4 per mille, come per Roderzo, che l'ha portata al 5, o Meduna al 4,5, o ancora Conegliano, che l'ha portata al 4,3. Perché lo Stato ha detto che rimborserà in base all'imposta, non in base all'imposta che i comuni hanno adottato a suo tema. Allora conviene verificare l'aliquota pagata nel 2012, per capire se il comune ha applicato l'aumento e sperare, come sembra, che il 60% dello stesso venga comunque rimborsato dallo Stato. Sembra perché a Roma di confusione continua a essercene veramente tanta. Mi aspetto che appena arriva la Camera al decreto, si discute e si possano fare con chiarezza le scelte che devono essere fatte per dare sicurezza ai cittadini, ma anche e soprattutto agli amministratori che non sanno che fare con l'Imu. Altro che cancellazione, alla fine, tanto poco, chi ha già avuto l'aumento pagherà comunque un po' di Imu sull'abitazione principale.